Grazie. Grazie, un po' di porchetta, grazie, benissimo, ciambella, va bene allora, sì, grazie. La fresca di Pasqua, la facciamo qui nelle Marche, questo è un nonzino, un nonzino, formaggio, grazie. Prendere da bere del vino, ci mettiamo qua dai, menù del pranzo, preparato con prodotti biologici, spero che faccio il video, eccolo qua, vai, giustamente andiamo a prendere il vino, va, un bicchiere indivino, buongiorno, che vino abbiamo qua? Qui ci sono alcuni rossi, io vado col Coli Pesarelli di San Giovese, che mi sembra, grazie. Questo è di Pagliari, qui sopra fa il Sorbrone, pochi chilometri. D'accordo. Grazie. Svolta la tenda a 40 minuti. Allora. Ciao, facciamo un video, un video, ho ancora il segno del... Ma anche il casco... Dai, va bene, dai, ciao, fai un saluto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, dal Giro d'Italia. Dal Giro d'Italia è tutto. È tutto. Ciao. 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 La maglia rosa è un po' più agile della federata di Lago Laceno che andava con rapporti impossibili, oggi sta operando molto bene la maglia rosa. Dobbiamola a Giada Borgato, Giada ha messo fine alla disoluzione Baez e Zanat. Facciamo il bucato. Il bucato si gira e dà delle occhiatacce a Baez. Chi lavora tanto è sempre Fargil con Verona. Il processo alla tappa Rai, carovana, la carovana che la gente piace da matti. Grazie a tutti! Direi che basta con la carovana, tra qualche minuto arrivano. Saranno 20-25 km dall'arrivo. Bene, adesso vi faccio far passare qua questa carabiniera. Il ciclismo 1.38, nuovo aggiornamento della situazione, gruppo maglia rosa segnalato a 5 primi e 53 secondi. A Belsina ha convintato a fare l'andatura in testa del gruppo che è segnalato a 5 primi e 43 secondi. Mauro Vegli ha maniche corte, magro, in forma, è un fenomeno. È un idolo qui a giro. Più o meno fra corpi teleobiettivi di valore di macchine fotografici. Barba Pedrotti, onestamente questo è un armamentario da poveretto del Giro d'Italia. Eccoci qua a Fossombrone, pochi minuti prima dell'arrivo della ottava tappa del Giro d'Italia 106 anno 2023. All'arrivo i fotografi si devono posizionare a una distanza prestabilita da delle strisce. Questo è l'arrivo, la distanza sarà 40-45 metri dall'arrivo e c'è questa striscia che viene tracciata e lungo questa striscia i fotografi si possono piazzare. Stefano Diciatteo, il capo addetto stampa, RCS, traccia, fa tracciare la linea e un po' gestisce il traffico qui fra addetti ai lavori all'arrivo. Sono fotografi, cameraman e quant'altro che più tardi arrivano anche dai giornalisti col microfono per fare interviste. Più avanti c'è una donna dedicata al palco delle giugnazioni eccetera eccetera. Ecco questo è un po' l'arrivo come è organizzato fra virgolette. Qui vediamo i fotografi, quelli proprio più professionisti con le pettorine rosse e rosa. E io ho onestamente una pettorina verde, un fotografo stampa ecco. Questo qui se non lo conoscete è Eurosport, è un esitista professionista. È il location manager rosa. Ecco, mi lascia. E' un passato. E' un passato. Altro gruppetto da dietro, guidato da Renko e Venepul. Venepul rischia di incassare una sonora sconfitta in questo finale. Attenzione perché Yili è molto vicino all'arrivo. Si guarda le spalle a tutto il tempo di gustarsi questa magnifica vittoria. Ben Healy. E da qui arriva Dandy e Rwanda. a Manitalia che gli ha regalato delle bellissime soddisfazioni. E ormai 300 metri, Ben Healy. Lo ricordiamo, vincitore del Gran Premio di Larciano. Una tappa a Forlì, quella della Coppe Bartali. Ex campione nazionale della cronometro. Secondo alla 10, baston 10. Questo corridore saluta il pubblico. Saluta il pubblico e sa che ormai è fatta. Signore e signori. Ben Healy. Mette il timbro a posto drone. Ben Healy. Ben Healy. Ben Healy. Ben Healy. Tutto solo. Parte la volata con Derek G in maglia Israel. Esce il tricolore di Filipozzana. Derek G però che bravo, riesce. È molto bravo. Derek G. Derek G. Derek G. Filipozzana. Vorreste parti. Della posizione per la vista della linea d'arrivo. Due maglie della Ineos Grenadiersa. Signori l'applauso. Vediamo se c'è la volata. Derek Thomas, vincitore del Tour de France. che è anticipato da Theo Kagan Arte e da Primoz Robich. Devo fare la mano del team Tophilis. Brunsu Abidal. Gli ha dato, gli ha dato. Molto bravo. E poi la volata del gruppetto degli ulteriori seguitori. Alessandro Cofi. Giova Almeida. Torriamo Almeida. Jack Hagen. Rekha Veneto. E' un'attesa per Piazza Education. Easy Costa. Ben. Yeah. Giovanissima l'attesa classe 2000. Ha conquistato la sua terza affermazione stagionale. Terza vittoria in Italia. e ovviamente è l'affermazione più importante della buona carriera. Oggi è stato protagonista di un'impresa. Una giornata al comando. Una giornata che è coronata sul traguardo di Fossombrone con il successo nell'ottava tappa della Giro d'Italia. Benda. Vivei. E' ora il momento di festeggiare a Fossombrone il successo di questa tappa numero 8. la terra di Fossombrone per quello che è uno degli giovani più interessanti del panorama internazionale. Una bellissima realtà per Education Easy Costa. a primo dell'Irlanda, la sequenina Ben Hurley. e' ora il momento di festeggiare a Fossombrone il successo di questa tappa della settimana internazionale. il voto d'acqua ha vinto il campanile di Marciano, il suo campione nazionale per la pese per la nuova cronometro. Ben Sinei. E' il firmato Andreas Lechmessund. E' ancora una giornata da leader sulle strade in Giro d'Italia. e' la portacolone dell'artismo DSM che fa così avversire il simbolo del firmato, la maglia della leggenda, la maglia del mito, la maglia rosa per Andreas Lechmessund. e sorride, sorride il portacolone dell'artismo DSM. Ancora un giorno in Baglia Rosa, Andreas Lechmessund. A conto, una pioggia rosa qui a Fossombrone per l'ennesimo giorno con l'insegno del primato in classifica generale. Andrea, Andreas Lechmessund. E' ora il momento degli aspettamenti anche per il leader della Sineca generale, sui titoli di Gattori d'Europa e la capitola Giovanni di Andreas Lechmessund. Baglia Rosa! Grigissimo, la portacolone. E' proprio il festa. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti